grande fratello 2023 massimiliano e il piano contro beatrice ora che ai di baci non fa più parte dei giochi massimiliano varrese deve trovare altre strade da percorrere e ancora una volta nel suo mirino c'è beatrice luzzi tra loro non è affatto tornato il sereno come poteva sembrare per la felicità del pubblico l'attore ha confessato a fiordaliso nelle scorse ore di essere convinto del fatto che la collega sia innamorata di lui non solo starebbe mettendo in atto un piano che potrebbe scuotere la casa di cine città contro beatrice nella serata di ieri ciro petrone fiordaliso massimiliano rosy cin e anita hanno chiacchierato in piscina qui il primo ha rivelato che varrese sta preparando un piano contro beatrice le parole pronunciate da ciro come riporta bici fanno pensare che l'attore sia pronto a tutto se lo fai succede un casino cade la casa il protagonista di questa cosa ragazze al centro c'è max se lui arriva fino alla fine che la porta a fare una cosa del genere e poi la molla e le dice mamma mia succede un casino veramente io non posso dirlo è una cosa pensata da lui non lo sto inventando è verissimo quando succederà direte massi che hai combinato non posso dire chi è l'altra persona coinvolta varrese è rimasto vago sulla questione dichiarando di non poter dire nulla per il momento e che solo ciro è al corrente di tutto l'attore ha solo fatto presente che nelle prossime puntate i suoi coinquilini capiranno pare che rosy abbia compreso il piano di varrese e anche i telespettatori il pubblico è certo che il piano prevede che varrese si finga innamorato di beatrice per farle ammettere i suoi sentimenti dopo di che dovrebbe smascherarla almeno questo è ciò che lui spera più che smascherare la luzzi però massimiliano potrebbe solo peggiorare la sua stessa situazione agli occhi del pubblico che non riesce proprio ad apprezzarlo in alcun modo cosa sta accadendo nella casa del grande fratello 2023 in queste ore a poche ore dall'inizio della nuova puntata i gieffini regalano nuovi colpi di scena anita olivieri ha parlato di ultimo ed è stata censurata intanto massimiliano varrese scuote la casa di cinecittà con il suo piano contro beatrice luzzi ma partendo da anita le sue parole hanno attirato immediatamente l'attenzione della regia nella serata di ieri la olivieri ha parlato di vittorio menozzi rivelando di non essere interessata a lui in quanto lo trova noioso dopo di che la giovane gieffina ha raccontato alcuni dettagli sul suo ex fidanzato pare che quest'ultimo abbia frequentato l'ex fidanzata di ultimo si tratta di federica lelli con cui il noto cantautore romano ha avuto una relazione di circa due anni infatti come i suoi fan sanno bene molti dei suoi brani sono caratterizzati da riferimenti nei suoi confronti la olivieri si è lamentata del fatto che oggi non riesce più ad ascoltare le canzoni di ultimo addirittura a causa dell'ex fidanzato poteva mettersi con chiunque e invece è così sono stati insieme quattro o cinque mesi ha spiegato anita al gf la regia però ha deciso di agire di fronte ai racconti della olivieri tanto che ha censurato spesso il suo discorso ha tolto l'audio e cambiato in quadratura più volte probabilmente la regia ha cercato di evitare di causare intoppi con persone esterne